Diretta dalla Cina con il vostro GGJ, siamo saliti, abbiamo trovato le feci del lupo, le vedrete nel video che verrà pubblicato stasera. Guardate che meraviglia, il tramonto, il sole sopra Monte Morrone che va a coricarsi, è una meraviglia ragazzi. Sono queste le cose che fanno bene alla vita, la natura, i tramonti, i lupi, l'amicizia, i valori, le cose semplici, ma soprattutto la natura ci incanta sempre. Guardate che meraviglia questo sole arancione, è davvero spettacolare. Sono sceso apposta per farvi vedere il tramonto, adesso tornerò in quel di Simbario, mi vestirò pesantemente perché alle 19 ritorneremo in quel dell'Alacina a fare la tecnica del wall fouling. Speriamo che le batterie si siano caricate nel megafono, così che possiamo, diciamo in qualche modo, trasmettere il vero ululato, altrimenti ululeremo noi. Amen. In questo momento all'Alacina ci sono 8 gradi, abbiamo messo anche l'altimetro, si trova il lago dell'Alacina a un'altezza di 1020 metri. Guardate che meraviglia, ancora in diretta live con voi con il tramonto.